Ho cominciato anni fa perché c'è stato un periodo in cui sono stata in giro un poco in Europa. La passione per l'artigianato l'ho sempre avuto, però non avevo mai avuto il coraggio di intraprendere niente di particolare. A un certo punto invece in Olanda ho beccato una coppia di lesbiche simpaticissime che praticamente vivevano con l'artigianato e non lo specifico Vettorò o Tiffany lavoravano. Da allora ho scoperto questo materiale favoloso, fantastico, che è praticamente un po' di tutto. Duro, però allo stesso tempo elastico. Una lastra di vetro col tempo si può pure piegare, ma non si spacca. Tornando a Palermo mi ricordai di avere delle persone conoscenti che avevano un laboratorio di vetro Tiffany. Quindi cominciai a frequentare questo laboratorio pur non essendo stata invitata. Riciclando tutto il vetro che loro buttavano e utilizzando lo spazio nel forno che loro non usavano. Per me essere artigiano è anche uno stile di vita intanto. Quello che produco è realizzato sulla base della mia fantasia e del mio umore anche, no? Quindi insomma mi appartiene l'espressione anche di me stessa.